Cari ascoltatori di Radio Puggino NER, dopo il silenzio calato in questo periodo e il silenzio particolare dal 3 dicembre all'8 dicembre, pensavo ci trovassimo di fronte al primo segreto di Trevignano, ovvero della regina del rosario. E invece no, anche oggi, ieri veramente 8 dicembre, la regina del rosario ci ha voluto stupire nuovamente con qualche copia e incolla e qualche piccola novità diciamo. Bene, cari figli del mio cuore, grazie per essere qui nella preghiera e per aver piegato le vostre ginocchia. E quindi fino a qua questo il classico saluto. Figli miei chiedo al mondo di unirsi in preghiera. Vi prego figli, il mondo ha bisogno di fede, quella fede ormai per molti perduta. Da sempre nelle nostre chiese preghiamo per la conversione dei peccatori. Da sempre nella chiesa, durante la consacrazione, quindi durante la celebrazione eucaristica, si prega per i figli ovunque dispersi, sia nella fede, sia per tutto. Tornate a Cristo. Figli miei, oggi vi chiedo di non aver paura. Non temete i cambiamenti che vedrete nei cieli e in terra. Tanti sono i segni. Beh, io l'unico segno che vedo è il cambiamento climatico, che non è addi adesso, non è una situazione attuale. La terra sta subendo dei cambiamenti ormai da diverso tempo. Magari certi aspetti non erano palesi come lo sono adesso, però la terra è sempre, lo dice anche la scienza, che la terra è sempre in continua trasformazione, ma sia per intervento naturale, ma anche per intervento dell'uomo, in senso negativo o in senso positivo. Ma voi spesso non vedete. Cosa dobbiamo vedere? Perché distratti dal mondo? Cioè, ancora io questa parola non sono riuscita a capire che cosa significhi. Perché distratti dal mondo? sappiate che io sono sempre con voi per proteggere perché io sono vostra madre. Vabbè, questo lo sapevamo, grazie. Figli miei, molti saranno fedeli all'anticristo che ormai è presente. Alla faccia di altre profezie che dicono che ancora l'anticristo non è arrivato. che si chiama Alex, ma Alex non è il suo vero nome. Quindi come si chiama? Alessandro, Alex penserei ad Alessandro. Ma io dico loro, preparate il vostro olocausto. Io qui mi sono presa il lusso di andare da ignorante, ovviamente, perché non banto né bidottorato in teologie né niente. Però come olocausto, che io sappia, viene riferito alle sacre scritture dove venivano offerti in sacrificio tramite il fuoco purificante delle vittime, animali, per ingraziarsi Dio, per ricevere attenzioni particolari da parte di Dio, quindi anche benevolenza da parte di Dio. Oppure olocausto, lo si intende anche oggi, per esempio, la prima cosa verrebbe da pensare è come sinonimo di Shoah, anche se i significati sono diversi. Però come olocausto lo intendiamo anche come Shoah. Quindi qualcuno magari, forse, più acculturato anche di me, perché io onestamente, a parte vedere un italiano venduto al mercato delle pulce o alle bancarelle natalizie, che adesso sono molto comuni, e quindi trovarmi di fronte a una frase priva di significato, io non riesco a trovarne altro significato. Se volete intervenire nei commenti o fare un intervento anche audio su Radio Pugginone R, ve ne sarei veramente grata, perché io onestamente questa frase non l'ho capita completamente, forse Marco l'ha capita. Voi mi siete stati consegnati sotto la croce ed è per questo che voi siete la stirpe regale. non temete mai perché grazie al dolore alla croce sarete degni figli di Dio. Ma non finisce qua, perché a quanto pare la regina del rosario rincara un po' la dose. E cosa va a dire? Non vi è alcuna strada che la sofferenza per raggiungere l'apice della santità. La sofferenza non è una situazione che dobbiamo imporci. Dio non ci chiede olocausti o sofferenze. Dio ci ha creati liberi e felici. vuole che noi nella gioia, nei doni che ci dona, sia nelle nostre capacità, sia della bellezza della natura, di ogni cosa bella che noi abbiamo nella vita, Dio lo fa perché possiamo glorificarlo della sua grandezza e noi possiamo goderne i frutti di questa grazia, di questa grandezza. Che poi la vita intervenga in senso negativo e quindi ci mandi la sofferenza come una malattia, la perdita di una persona cara. E allora offrire la sofferenza a Dio è un'altra cosa, è diverso. Perché Dio tramite l'offerta della nostra sofferenza ci renda grazia di questa sofferenza e possa aiutarci ad affrontarla, superarla e andare avanti con la vita. Perché rivelo Dio ci ama proprio per essere felici. Un padre non vorrebbe mai che il proprio figlio stesse male, che il proprio figlio piangesse, che il proprio figlio soffra. Nessun genitore vorrebbe questo per il proprio figlio e così anche per Dio. Non è nella sofferenza, secondo me, sempre da ignorante che saremo degni figli di Dio, no. Quindi non vi è alcuna strada che è la sofferenza per raggiungere l'apice della santità. Ma poi la santità comunque è un concetto che non viene raggiunta per la sofferenza, cioè che più soffri più delle cerchievole lanterne e più sei santo. No, la santità richiede anche altri requisiti spirituali che portino alla santità. Siate apostoli e testimoni nel mondo. Dio ama i suoi figli fedeli e a lui obbedienti. E appunto Dio ci ha lasciato la Bibbia, ci ha lasciato i dieci comandamenti perché ci vuole liberi e felici. Vuole che noi amiamo la vita, no che la disprezziamo. Quindi la sofferenza non è imposta. Tutto si sgretolerà ma a voi nessun capello vi sarà toccato. Quindi occhio quando vi cadono i capelli. Ora vi lascio la pace e portatela nelle vostre case e nelle vostre famiglie. Di quale pace sta parlando dal momento che io mi ritrovo a dover soffrire per raggiungere questa fantomatica fantomatica apice della santità? Cioè quale pace? Che la pace nel cuore porta gioia, la pace del cuore porta serenità, la pace del cuore porta anche un corretto discernimento. E quindi di quale pace sta pregando? Cioè di quale pace sta lasciando questa Regina del Rosario? Cioè sto messaggio veramente, Santa Lucia non me ne voglia, ma io ci sto perdendo gli occhi oltre che il fegato dalle risate. Cioè perché, ma non è, è un messaggio che potrebbe anche suscitare ilarità. Perché un percorso di fede ben fatto, queste parole sono parole vuote, privo di significato, privi di contenuto, privo di teologia di tutte cose, almeno. Poi qualcuno può anche smentirmi. Un altro messaggio ho buttato lì tanto per dire qualcosa, tanto per far vedere che c'è e non c'è. Tipo i fantasmi, no?